ciao questo è il solito video di quando faccio riesco a guardare qualche film nuovo che mi sono andato a vedere il questo film che si chiama il royal hotel che è un film del 2023 come film che come genere è solito drammatico thriller che visto che adesso l'hanno messo sulle solite piattaforme sono riuscito ad ammelo recuperare nel guardare che due a un'ora e mezza come film quasi quei 91 91 minuti che a parte della parte della regia questo kitty green che parla di queste due come si dice di queste due due ragazze queste due giorni back parker americane anna e live che stanno viaggiando attraverso l'australia che dopo aver finito i soldi mentre facevano festa a sidney accettano l'offerta di questa agenzia di collocamento di lavorare come barista proprio al royal hotel un pub di una remota città minera mineraria dell'outback che più che altro che la che più che come si dice questa è così che per farla mai breve la la trama per un dia mare più che altro particolari sul film la trama prendeva che la documentarista australiana kitty questa kitty green prosegue la sua indagine sulle intricate dinamiche della cultura maschile che ha già esplorato in the assist nel 2019 che questa volta come si dice che è sempre questa anna e live all'arrivo incontrano magari proprietario proprio del ball del pub b questo billy e sua moglie carol che lavora lavora anche come chef del pub che il primo di tu uno di anna e live e gestire la chiesa chiesa osa festa di addio aprilo precede predecessori e i turisti inglesi questa giulis e che si che mentre lavora incontrano diversi clienti abituali che hanno è trovata dal sessismo casuale che dalle battute misogine e dal comportamento inappropriato mostrato dai clienti dei pub che sono per lo più uomini anche livello lo liquida con uno shock culturale che più che altro come si dice a farla mai breve anche la la trama proprio del film che l'ultima se al pub anna organizza una festa di coppia e compleanno per live che dopo aver appreso da ditte che live è andata via con dolly anna la trova ubriaca nella macchina di dolly che quando dolly tenta di andarsene anna interviene tagliandogli una gomma con un'ascia che anna e live tornano al pub dove litigano e che mentre dolly e matte portano live alla loro macchina anna anna esce che allarmata dalle ferite della sua amica live si libera proprio da dolly e si riunisce ad anna che mentre dolly si avvicina a questo ditte si e si scanta con la macchina con il suo camioncino inizia ad aggredire dolly mentre matti scappa che il film finisce più che altro con ritirandosi al pub le ragazze iniziano a rompere diverse bottiglie che quando ti entra di dichiarano di aver picchiato dolly per reclamare live per sé che live lo respinge con rabbia che con il pub coperto di liquore anna da fuoco proprio all'edificio che nel stesso momento anna e live se ne vanno in silenzio mentre il voglia il royal hotel brucia che finisce così questo film che non volevamo redi e particolare sul film che se no a a spiegarlo ma è tutto il film viene il video troppo lungo che più che altro come si dice più che altro insomma la trama dei film e a questa qua che più che altro il film è proprio la trama proprio dei film dei royal hotel più che altro a farla bene è una è una analisi approfondita della mascolinità tossica con corpi e voci maschile che si fanno sempre più minacciosi con un progressivo accumulo di tensione che è un tipo di film che riflette sulle dinamiche di genere di una società tuttora influenzata dai pregiudizi fondamentalmente radicali e con solita a consolida la posizione proprio di questa che ti vede come voce femminista di rilievo che la trama mai in sé proprio delle firme questa qua che vi lascio come al solito tutte le informazioni di questo film è tra cast video trailer e si riesco anche anche a trovare qualche altra informazione in più trovate tutto sotto in come al solito in descrizione che più che altro la trama in sede del film era questa qua che visto che lo hanno messo sulle solite piattaforme l'ho voluto tipo andarmelo a recuperare che più che altro come genere come ho detto prima è drammatico di thriller che come paesi di produzione prende tre paesi tra l'australia regno unito e gli stati uniti che come ho detto prima anche dopo anche che volumina nominata alla parte della regia e di questa kit kitty green e niente che quello che potevo dire su questo film l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao